Ciao a tutti sono Mick, volevo ringraziare Chris per avermi dato la possibilità di partecipare a questo progetto che è molto importante, è un progetto che comunque dà spazio e visibilità a noi che siamo membri di un mondo che va parallelo al mondo mainstream della musica, del progetto di Old Blood. Come dicevo sono Mick, bassista cantante degli Entact, ho cominciato a suonare all'età di 12 anni ascoltando dischi che trovavo a casa di mio padre, il mio approccio alla musica era particolare perché ho cominciato a suonare ascoltando dischi reggae, praticamente tutti i rischi di Bobo Marley, io me li sentivo tutti i giorni e da lì cominciavo a suonarci sopra cercando di riprodurre le linee di basso che il reggae fa maestra in questione. Poi passano gli anni iniziano ad andare alle scuole medie e iniziano ad arrivare, si parla degli anni 90, iniziano ad arrivare le prime cassette di Nirvana, Pantera, Using Chains e lì iniziano ad appassionarmi a questo genere alternativo che è forte, che mi rappresenta in quel periodo là e mi inizia a venire la voglia di mettere su una band e di iniziare a suonare con qualcuno, provare ecco. Dalla chitarrina a quattro corde che avevo a casa riesco a comprarmi un basso molto economico, un Ibanez. Con un mio caro amico Luca, Luca Gioia, cominciamo a suonare, lui si compra la batteria, in un locale iniziamo a suonare tutti i giorni senza l'autodidatta, senza saper nulla ecco. Ogni giorno suonavamo senza avere un'idea di quello che volevamo fare in base agli ascolti che facevamo, che avevamo. Tutti i giorni ascoltavamo cross over, ripeto, grunge. Era inevitabile che usciva quel tipo di genere da quello che ascoltavi, ecco. E così è stato. Abbiamo fondato sulla prima band, si chiamava, se non mi sbaglio, Dirty Face. Alla voce c'era mio cugino e alla chitarra c'era un altro mio caro amico Vincenzo, che poi ho portato con me in altri progetti che ho avuto più in là nel tempo, ecco. Abbiamo fatto sto progetto che dopo un anno, due anni di prove è uscita una cassetta che non abbiamo mai stampato, perché comunque, sai, eravamo piccoli, andavamo a scuola. Non ci fregava molto il fatto di stampare roba, era più, era più cercare di sfogare la nostra rabbia in musica. Dopo di loro erano, ci troviamo a fine della maturità, alcuni vanno all'università, altri rimangono, chi rimane continua a suonare, cioè io e sempre questo mio caro amico Luca, mettiamo su un'altra band, i Mercy Kidding, stavolta alla voce c'è mio fratello. Io ancora non ho mai, non avevo ancora provato a cantare, ecco. Per me il mondo della voce non esistiva, ero fisso da più sul basso. E facciamo sempre questa band qua, mettiamo su, esce un disco abbastanza bello, con linee crossover, ma un po' più sul dark. Poi questa band dura un paio d'anni, poi niente più, ci fermiamo. Dopo questa band qui arriva il primo stop, diciamo, della mia vita, che tornando da una serata a ballare con gli amici, preso un colpo di sonno e ebbe un incidente, un incidente molto brutto che mi portò a stare un anno e mezzo fermo sulla sede a rotella, ecco. In quell'anno e mezzo la musica non esisteva più, non esisteva più niente nella mia vita, ecco. Volevo soltanto, non volevo fare nulla, ecco. Una sera, d'estate, se non mi ricordo male, trovai Valerio, Valerio Di Masi, micro-reaper, attuale batterista degli Entac, che mi vide così sulla sede a rotella e non mi chiese il motivo per cui stavo sulla sede a rotella, mi dice semplicemente ti va di suonare? Ti va di mettere su una band insieme? Io, spiazzato da queste sue domande, dissi, Fabio, perché no? Il giorno dopo cominciamo a suonare. Basso e batteria, tutti i giorni, tutti i giorni. E praticamente, più passava il tempo con Valerio, più iniziava a scoprire il mondo punk, l'hardcore, l'hardcore agli 80, tutto il DIY, tutto ciò che prima per me non esisteva, cioè lo conoscevo ma non c'era passione nell'ascolto, ecco. Valerio mi ha dato, mi ha aperto le porte al punk e così è stato. Abbiamo cominciato a suonare, poi c'era l'esigenza di trovare un cantante e ci dicemmo, guarda, se non troviamo nessuno, proviamo a cantare noi, però in questa band cantano tutti, se non c'è un frontman. E iniziamo a cantare io e Valerio, una strofa e una strofa a lui. E da lì è nato il progetto che mi ha dato la possibilità di cantare, di scoprire che avevo questo, diciamo, talento nel cantare e suonare. Abbiamo cercato un chitarrista, tra le varie prove che aveva sbucato Fabio. Era più piccolo, era Fabio il fratello di un mio caro amico che mi diceva prova Fabio, prova Fabio, è bravo, è bravo. In effetti, quando cominciamo a suonare con Fabio abbiamo raggiunto un trio perfetto. Da lì è uscito un primo split, anzi no, scusa, da lì è uscito il primo album. All'epoca ci chiamavamo Undead, l'album è Ino My End. Con quest'album e grazie a MySpace praticamente siamo entrati nel circuito internazionale. Così per gioco iniziamo ad arrivare email e io a mandare email in Inghilterra per cercare di trovare qualche data e sempre per gioco ne uscì un tour. Facciamo un tour nel 2007 in Inghilterra, dieci date. Per noi fu spettacolare perché non ci aspettavamo davvero che la nostra musica poteva andare così forte lì. Eravamo ancora all'inizio, ecco, nel 2005 è uscito a Ino My End. In Puglia, dove siamo nati e cresciuti, erano poche le date che facevamo. Avevamo suonato spesso a Lecce, perché io all'epoca studiavo a Lecce, infatti lì ho conosciuto Chris e tanti fratelli salentini che porto sempre nel cuore. E devo dire grazie anche a loro, al Chris, all'Andrea Litti, che hanno creduto in noi. Forse di più della gente di Taranto, perché noi praticamente suonavamo più in Salento che nel Tarantino. Insomma, da quell'anno, dal 2007, partiamo in tour in Inghilterra. Fu un'esperienza stupenda, perché suonavamo tutto il nord di Inghilterra, la Scozia, poi scendiamo già a Londra, la prima volta in un paese stranino, la prima volta con la guida al contrario. Fu davvero una bella esperienza. Tornando, carichi di quello che avevamo ascoltato, della gente che avevamo conosciuto, ci mettiamo subito in studio ed esce e registriamo i pezzi per il nuovo album. Intanto facciamo uscire uno split con le Simpudor, un gruppo punk colombiano, che stampiamo qui in Italia e mandiamo le copie tutto là, che fanno il giro della Colombia, del Venezuela, insomma, un bello split punk, punk hardcore. Come dicevo, ci mettiamo in studio per fare il secondo album, escono 11 tracce belle e cattive e continuiamo a suonare nei vari festival punk italiani. Prima ci troviamo all'estate, all'estate dove c'è il Rosefest e il Letchercore. Al Letchercore ci cave già di suonare e di conoscere lì un quarto morto, che quando li vidi la prima volta rimasi scioccato perché dissi cacchio, questi sembrano i Ratos Deporao italiani, lo Scrutos italiani, non il Ratos Deporao, lo Scrutos, erano forti, veloci, cattivi. Mi innamorai di questa band qua, facciamo amicizie con loro e nacque un sodalizio che vive tuttora, perché con loro abbiamo fatto uno split, poi siamo stati in tour insieme per due volte di seguito. E prima di partire in tour la prima volta con loro, arriva il secondo stop della mia carriera musicale, cioè arriva una mail da Bob Steele dei Misfits, primo chitarrista dei Misfits, che ci impone di cambiare il nome, noi ci chiamavamo Undead e lui sosteneva di aver registrato il nome di Undead nell'81, sotto delle case discografiche americane, e se non cambiavamo il nome ci faceva causa, aveva già vinto delle cause importanti, quindi insomma volevi soldi da noi. Noi ovviamente squattrinati i panchettoni come eravamo, gli diciamo vattene a far pure il tuo il nome, e ci troviamo un altro nome. E da lì è uscito il nome Eintact, però eravamo in parallelo, dovevamo partire in tour con un quarto morto di Ordea, in tutta Europa, facciamo Germania, Olanda, Belgio, Svizzera mi sembra. Arriviamo là e c'erano le locandine con il nome Undead, e noi cancellavamo e scrivevamo Eintact. Però paradossalmente fu una fortuna per noi, perché poi, tornati dal tour con un quarto morto di Ordea, le sonorità cambiarono, iniziamo a diventare più oscuri, più veloci, più... ci spostavamo dal punk hardcore al grind hardcore. E infatti il terzo album con il nome Eintact, che si chiama Blackcore, rappresenta perfettamente il cambio di genere che abbiamo avuto, che è stato parallelo col cambio di nome che abbiamo avuto. Da Undead siamo passati ad Eintact, dal punk melodico siamo diventati Blackcore, Blackcore, infatti l'album si chiama Blackcore, ve lo consiglio perché è un album bellissimo. Fatto quest'album, che è uscito in vinile, fatto lo split con un quarto morto, che è andato benissimo, abbiamo venduto un sacco di copie, sia in Italia che all'estero, abbiamo registrato l'album, ripeto, con queste sonorità nuove e oscure, e siamo ripartiti nuovamente in Inghilterra, questa volta con un nome nuovo, e con un genere nuovo, cioè la gente che ci è venuta a vedere nel 2007, con il nome Undead, che facevamo stile Ramos Misfits, ci è venuta a rivedere con un nome nuovo, e un genere nuovo, e la paura mi era che non piacesse, invece furono molto colpiti da questo, da questo genere nuovo, da questo essere più aggressive, sempre con quella vena di malinconia che ci contraddistingue in ogni canzone che abbiamo scritto, è stato bellissimo il secondo anno, la seconda volta in Inghilterra, perché abbiamo fatto un tour con i Full Circle, un gruppo inglese, di ragazzi che sono rimasti nel nostro cuore, loro ci stimavano tanto, ripeto, suonare in Inghilterra è bello, perché è vero quanto il popolo inglese apprezza la musica, puoi fare qualsiasi genere, se il gruppo a loro piace, si riempiono i locali, capito? Non è come in Italia che il locale deve cercare di spingere la gente dentro, là il gruppo che ha il potere di spingere, di portare la gente nel locale, il locale ti dà totalmente libertà, e anche nei pagamenti è così, cioè se il locale è pieno, tutto l'ingresso te lo prendi tu, ma se il locale è vuoto, la stessa cosa te lo prendi tu, e quindi fu bellissimo per noi. Tornati dall'Inghilterra, c'è stato, mi sembra, abbiamo fatto un altro tour da soli nel 2011, stavolta sempre nel nord Europa, e poi niente, è cominciata a decollare la carriera da Rijedi di Valerio, il batterista, io ho cominciato a suonare anche con una nuova band, di Amp, che è presto uscirà il primo album, questo è, diciamo, tutto. Quello che voglio dire a chi ascolta, a chi ha il piacere, mi fa il piacere di vedere questo video, è che comunque, non importa dove vivi, non importa la musica che fai, se non devi mollare mai, devi avere sempre quella fama di cercare di andare avanti, perché comunque noi, da un paesino sperduto, della Puglia, da Massafra, siamo riusciti ad arrivare in tutte le città europee, e a suonare davanti a migliaia di persone, solo perché la nostra musica piaceva, non perché eravamo amici, o parenti, o figli di qualcuno, conta solo la musica, e nel genere oscuro, nel genere alternativo, che va di pari passo al mainstream, conta quello, contro la musica, contro la voglia che ci mette, la forza che hai nel portare avanti un progetto comune. Ecco a tutti voi, ringrazio Chris, nuovamente per avermi dato questo spazio, e spero che il progetto di Old Blood continui con il successo che sta avendo. Grazie a tutti ragazzi.